I paesi della zona euro avrebbero potuto fare di più per aiutare l'economia greca. Secondo il ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, in situazioni di crisi come quella che ha colpito la Grecia, è necessario agire tempestivamente e in modo coordinato. L'Italia chiede anche all'Unione Europea un impegno maggiore in materia di lotta all'immigrazione clandestina e controllo delle frontiere comunitarie. Ministro Frattini, sul piano europeo di salvataggio dell'economia greca, lei ha affermato che è la prova di credibilità per il mantenimento del sistema europeo. Però da Bruxelles è giunta una semplice dichiarazione di intenti. Ancora una mancanza di coesione all'interno della famiglia europea o la preoccupazione è che lo stato di salute dell'economia greca non sia quello che è stato presentato? I capi di Stato e di governo hanno promesso aiuto, ma poi non siamo stati tutti quanti in grado di disporre delle misure concrete. Sappiamo che la Commissione europea ha chiesto alla Grecia notizie sulle informazioni che erano trapelate sulla stampa internazionale, di aiuti che la Grecia avrebbe ricevuto per presentare i conti in una maniera migliore di quelli che in realtà sono. Noi siamo convinti che il primo ministro Papandreu si sia comportato sempre con grande onestà. credo che avremmo dovuto fare di più, però ci sono dei criteri per prendere le decisioni e se non c'è l'unanimità queste decisioni non si possono prendere. Quindi continuo a dire che per essere credibili come paesi dell'area euro dobbiamo essere in grado nel momento di difficoltà di un membro dell'area di intervenire. Italia, Spagna, Malta e anche la Grecia ogni estate sono prese d'assalto da migliaia di migranti in fuga dai rispettivi paesi. Come sta agendo il governo italiano per controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina sul lungo periodo? La questione è europea, non è italiana o maltese o greca. Se i migrati clandestini arrivano in Sicilia, visto che le frontiere interne non ci sono più, si muovono rapidamente verso l'Austria, poi verso la Germania, poi verso l'Olanda ed allora il problema è di tutti. Abbiamo chiesto che l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere fosse potenziata, che i pattugliamenti sul Mediterraneo coinvolgessero più paesi rispetto a quanto non accada ora e abbiamo chiesto con forza che vi siano le stesse regole in tutti e 27 i paesi per richiedere lo status di rifugiato, per essere ammessi oppure espulsi. L'Italia ha fatto molto a livello nazionale per frenare l'onda degli immigrati clandestini. Abbiamo con la Libia un accordo che ci ha permesso di ridurre in un anno del 90% gli afflussi di immigrati clandestini sulle coste siciliane, ma questo non basta. Noi proteggendo la Sicilia proteggiamo l'intera Europa. Sulla base della sua esperienza come commissario alla giustizia, che valutazione dà del potenziale della Commissione Barroso 2 e quali sono le aspettative dell'Italia, magari su temi sensibili quali l'immigrazione? Io credo che la Commissione Barroso abbia messo insieme una buona squadra anche nel secondo mandato di Barroso. Certamente sull'immigrazione noi ci aspettiamo moltissimo. Ci aspettiamo molto sull'immigrazione, molto sulla sicurezza energetica, molto sul mercato interno e ci aspettiamo direi un'Europa attore internazionale. Cathy Ashton ha una grande sfida davanti a sé, essere successore di Javier Solana e anche del commissario alle relazioni esterne vuol dire incarnare due ruoli che sono veramente cruciali. Io la sostengo come persona qualificata e preparata e ora ovviamente vogliamo i risultati. Ministro, cambiando argomento, l'Iran si è allontanato dal tavolo delle trattative e perseguendo la strada dell'arricchimento dell'uranio. In risposta alle critiche occidentali sono andate in scena manifestazioni di fronte alle ambasciate europee, tra cui quella italiana. Il canale del dialogo è ormai chiuso? Io credo che la palla sia nel campo iraniano. La palla è a Teheran, non a noi. Noi abbiamo confermato un'offerta, un'offerta generosa, che dice con grande semplicità l'uranio dell'Iran si può arricchire per avere una centrale a scopi civili, ma bisogna farlo fuori dal territorio iraniano, cioè in piena trasparenza. Diciamo che l'Iran sta rischiando di perdere definitivamente la chance di un negoziato. L'unica ricetta, a nostro avviso utile, è usare delle sanzioni internazionali come leva, non per fare la guerra all'Iran, ma per evitare la guerra all'Iran. Ma lei pensa che si possa arrivare a un'intesa all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU? Se la Cina comprenderà, come io credo, che avere una bomba atomica a Teheran è pericoloso pure per la Cina, la Cina con il suo pragmatismo millenario magari farà un voto di astensione, magari non voterà a favore, ma perché dovrebbe favorire l'armamento atomico iraniano? In questi giorni è in corso un'intensa campagna militare nel sud dell'Afghanistan contro i talebani. La stabilizzazione del paese passa attraverso l'uso della forza oppure aprendo la porta del dialogo politico ai talebani come sembra voler fare il Presidente Karzai? Noi abbiamo deciso a Londra qualche settimana fa che la strategia deve essere politica. Bisogna restituire il controllo del paese nelle mani del governo afghano. Noi non vogliamo rimanere lì come forze occupanti. La sicurezza è necessaria per rilanciare un programma di governo per l'Afghanistan, non per fare la guerra ai talebani. Vi sono gruppi di talebani che non sono recuperabili. Sono quelli legati al terrorismo, ad Al-Qaeda, quelli che vivono la loro azione per la violenza. Vi sono talebani invece che sono diventati insorti magari perché hanno perso il lavoro, perché sono disperati, ma non hanno niente a che fare con i terroristi e a questi che noi dobbiamo guardare per reintegrarli. Per concludere, l'Italia e il suo primo ministro Silvio Berlusconi sono spesso oggetto di critiche, quando non di commenti ironici, da parte della stampa internazionale, o almeno da una parte della stampa internazionale. Lei da capo della diplomazia italiana come giudica questo atteggiamento? Vedo molto spesso ritratti dell'Italia che con l'Italia non c'entrano nulla. Allora mi chiedo, sono ritratti dovuti alla non conoscenza dell'Italia, qualche volta è così, o sono ritratti ispirati da una concorrenza e da una competizione internazionale che certamente usa anche la denigrazione del paese? Gli italiani hanno uno sport fantastico, parlare male del loro paese quando sono in giro per il mondo e questo ci indebolisce, è oggettivamente una nostra debolezza che dobbiamo respingere. Ministro Frattini, grazie per aver accettato l'invito di Euronews e buon lavoro. Grazie tante. Ministro Frattini, grazie a tutti.